Musica Salve a tutti ragazzi, qua è leone 9595 e vi parla e oggi è un video un po' diverso dal solito diciamo Siamo nella mia cameretta e questo qua a destra è il mio letto E qui è la mia postazione da gaming dove faccio tutti i video e gioco praticamente La sotto abbiamo il mio computer nuovo che ormai ce l'ho da un anno Però proprio ieri gli ho fatto il nuovo upgrade e infatti voglio farvi notare Abbiamo una nuova scheda grafica, ho montato la R9 390 della Sapphire Che qui dietro adesso vi faccio vedere il modello Questa praticamente è la vecchia scheda grafica che è la redonca di 960970 E qua è la postazione da gaming, abbiamo il Logitech X530 5.1 Dolby Surround Lì abbiamo le casse, lì e lì e lì sotto nascosto c'è il suo guf Abbiamo le mie cuffie che sono le G430 sempre 7.1 sempre della Logitech E la tastiera della Aerocool se non sbaglio si scusate e la Gladiator Il mio mouse che è della Gigabyte il 6980 E il mio schermo che è un Sysmaster TA350 Full LED Full HD a 75 Hz E qua come vedete vedete la mia pagina di Youtube La mia pagina, il mio canale di Youtube che vi faccio vedere E niente, volevo farvi un piccolo video diverso dal solito Per farvi vedere i nuovi upgrade che ho fatto Vi rifaccio vedere, questo è tutto il mio nuovo computer Davanti abbiamo un pannellino touchscreen dell'Aerocool per gestire le varie ventole Qua abbiamo un'altra ventola da 200 mm Che qua sotto non so se si vede, ma ce n'è una anche qua sopra Sempre da 200 mm, qui stesso uno da 14 mm, 140 mm Per cui ho anche là dietro un'altra E niente, dietro abbiamo le varie USB porte varie Che adesso non si vedono, anzi, basta che sposto un attimo Le vedete così E niente di che, volevo fare un video così, semplice Per farvi vedere il nuovo upgrade e fare un video diverso Per cui, ciao a tutti e iscrivetevi al mio canale per altri video Ciao ciao